Romina Power non dimentica e, allo stesso tempo, prova a non perdere la speranza. Sul proprio profilo Instagram ripropone una foto d'epoca che la vede insieme ai suoi due primi figli avuti con Albano Carrisi, Ilenia e Iari. Un pensiero speciale per la sua Ilenia. La figlia scomparsa drammaticamente nel 1994 e di cui non si hanno purtroppo notizie certe. Contrariamente all'ex marito, Romina continua a nutrire speranze che Ilenia possa ancora essere Romina Power e la sparizione di Ilenia. Un dramma mai dimenticato. Novembre ritorna ogni anno puntuale come la notte ha infatti scritto Romina nella didascalia che accompagna la foto puntuale come la speranza. Ogni anno, soggiornando ancora testardamente dentro di me, e costantemente scuotendo i ricordi nei meandri segreti del mio cuore. Una dedica redatta sia in italiano che in inglese per ricordare la figlia Ilenia. Novembre ha infatti una doppia valenza. È il mese in cui tradizionalmente si ricordano i defunti. Mentre il 29 del mese è il giorno della nascita di Ilenia. La prima dei quattro figli di Romina è Albano. Oltre a Ilenia e Iari gli altri due sono Cristela e Romina Junior e Yolanda. Sparita in circostanze molto controverse. Per diverso tempo la coppia ha conservato la speranza di ricevere notizie. Senza tuttavia ottenere chiarificazioni. Albano si è detto ormai convinto della morte di Ilenia. Adi. La sparizione di Ilenia risale al 1 luglio 1994. Quando i due ricevettero l'ultima telefonata dall'Eda Leotel di New Orleans. Ilenia aveva iniziato una relazione. Molto contrastata dal padre. Con il musicista afroamericano Alexander Masachela. Avente peraltro precedenti in abusi sessuali e utilizzo di stupefacenti. Nonostante nuove testimonianze e teorie dell'ultima ora non è stato possibile ricostruire la verità. Lasciando un dolore profondo nei genitori. Appena cinque anni dopo la morte della figlia. Peraltro. Avvenne il divorzio tra Romina e Albano. Dividendo una delle coppie più famose. Per Romina novembre è il mese dedicato a Ilenia. Che. È sempre nella mia mente e nel mio cuore. Ogni novembre Romina posta ogni giorno una foto della figlia scomparsa. Per la power Ilenia ha perso la memoria e si trova da qualche parte inconsapevole di essere così cercata da tutta la sua famiglia. Recentemente era trapelato che il fratello Iari avesse rapporti con la sorella scomparsa e che si fossero anche incontrati. Notizia smentita poi da E, vero invece che in un report americano segreto compare Ilenia Carrisi. La ragazza sarebbe stata trovata in un resort di lusso insieme a due uomini. La donna però è scomparsa dopo l'arrivo della polizia. Quando poi è stato richiesto di vedere la presunta Ilenia. L'albergatore ha dichiarato che la giovane era maggiorenne e che non voleva incontrare le orse dell'ordine e che quindi aveva lasciato l'albergo. Un episodio che ha lasciato ancora dubbi sulla possibilità che Ilenia sia ancora viva e raccontato da un invito. L'albergatore ha dichiarato che la giovane era maggiore. L'albergatore ha dichiarato che la giovane era maggiore.